E' una grande soddisfazione, devo dire che il premio è riconoscimento per un grande lavoro di squadra, è un lavoro di partnership che abbiamo svolto come conf cooperative insieme a Cisla. Tutti i team delle due associazioni sono stati pienamente coinvolti per cui effettivamente questo premio è il risultato di questo grande sforzo congiunto. Lo vogliamo prendere un po' come uno spunto per il futuro perché non sarà effettivamente una realtà semplice, ci saranno momenti difficili ma deve essere a mio avviso comunque un elemento di coraggio perché la direzione è stata presa e credo che effettivamente il mondo, quel comparto economico principalmente abbia la necessità di nuove forme di innovazione di impresa. Voi avete fondato la prima cooperativa di Rider, giusto Giovani Rider? Esattamente, diciamo così, è sicuramente un'impresa innovativa e si va a inserire in un contesto imprenditoriale particolarmente difficile, è un settore, un mercato che è sostanzialmente popolato da una serie di multinazionali con dei grossi mezzi, dei grossi capitali. Siamo un po' una mosca bianca ma siamo convinti che potremo fare la differenza.